Se volete acquistare crediti andate su foodgalaxy.com e con il codice DREAD avrete il 5% di sconto Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale, oggi siamo tornati con rotto di vision 1 Perché oggi dobbiamo assolutamente fare 3 vittorie su 3, cosa che non succederà mai però ci proviamo Staccendo là il signore abbiamo un punto nella divisione 8, dobbiamo oggi arrivare assolutamente a meno alla salvezza Che signori prima partita abbiamo MV9 skill, tutti oro, questo mi rompe il culo Ma non è vero perché non abbiamo val di fiori Ok signori let's go Fritella, let's go Fritella andiamo a vincere queste partite signori Giochiamo in offensiva, no ma che è in offensiva no? Via così subito via Fritella, come on Fritella Dov'è il team? Forza, forza, grandi passaggi, tutti i pezzi No vabbè ma perché salgono da soli? Stop di naso signori, ha stoppato di naso E Gesù Cristo, Arche U, via ripartiamo dalla difesa così, violenza Ma perché lì? Ok, appoggiati, vai così di prima Come on, di prima, gioca di prima Come on da lì, da lì lo sapete che è successo? Eeeh, niente, 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 niente Ah questo corre 8000 all'ora regà Eh vabbè, ciao Terzo, go Grande Ripartiamo così Sto morendo Come on Fritella, come on Piniglia Regà mi giù sto ammorti tantissimo Lex Via così Fritella Vai le cazzate però Vaffanculo Porco, 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 porco E tua E tua Come on Piniglia, madonna che lentezza Piniglia A chi? Oddio sei solo Tira Dove ha tirato? Un'azione sbagliata Da che gliele vada Come on Dai lento come il croce Come on Maxime da lì Come on è buona per Piniglia Di te sta maledizione Che colpo di essere Tira Qualcuno ti rimporta Uscimo Partito Lex Come on Lex Dai minchia E vabbè è lento come la morte Regà Lento come la morte Vai Lex Vai che tre sei andato Vai che tre sei andato Mettile in mezzo Perfetto Perfetto Ma li anticipavo Grande con la suola Grande superato Vai così Fucilata incredibile Perfetto Perfetto Piniglia mio Dio Come gliel'ha levata Vai così ancora Ancora incredibile Oddio cazzione Vai che è partito Come on Franberg Come on Franberg Via Franberg Oh mio Dio Franberg Franberg Mortacci mia Libera di ti prego Ottima Non è vero Non è ottima per niente Oddio passagliela Oddio cazzione Tira Ma perché tutti alti Non lì Non lì Va bene No dai Ma che cazzo fa Dio Tira Ti prego Non ci credo Va di testa L'anticipato C'è Maxim la lì Maxim la mette in mezzo È perfetto Vabbè regà Tutti lisci No vabbè Oh che culo ha fiscato la fine Grande occasioni per Frittella Però Questo fa un tiro Un gol Come sempre Ma che tua Vabbè Non ho cliccato nessun tasto Ha fatto intervento La storia Ma ve pare Guardate Corre Lui gioca a FIFA 15 Attenzione Guarda che comunque Mettiamo molta pressione All'avversario Guarda che me li sta uccide tutti Non mi fischia un cazzo di fallo Ma sta giocando in mega difensiva Questo Fischia Poglione Maxim Ma che cazzo ha tirato Vai così E vabbè regà Ma che cazzo di finta è Vai così Ma non per piniglia Non era per piniglia Ha fatto la cazzata regà Lo sapevo che la faceva Guarda che culo Guarda che culo Vai 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 Molinaro Come on Molinaro Please Molinaro No non ci credo Dai ti prego Dai ti prego Tira Tira dagli segni Ma che cazzo ha preso Come on Maxime Make the miracolo Fra un caccio E vabbè te l'ho fischiata Dai Nolli Porco di E' stata sicuramente una partita Che l'avversario ha dominato Seconda partita Tutti oro serie A ovviamente Vai che ti sei inserito bene Guarda che c'era piniglia Porco due che culo Let's go piniglia tua Come on c'è Lex Via Lex Inserito benissimo E vabbè da là che cazzo fai E rigore Calcio di rigore signori Nettissimo Fittella può andare in vantaggio Dai vabbè cazzo Piniglia da lì Piniglia dal dischetto Piniglia dal dischetto Piniglia ho sbagliato Ho sbagliato Non è vero Piniglia Andiamocela a vincere questa Andiamola a vincere Andiamola a vincere Dai piniglia Dai che la prendi Dai piniglia che la prendi Come on piniglia Grande assist del portiere per piniglia Piniglia maledizione Piniglia Piniglia No Ande così Via così ripartiamo Come on frittella Madonna Via così Vai così Vai Maxime Come on Maxime Mortacci tua Vai Maxime Maxime incredibile numero di Maxime Maxime incredibile Maxime 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 Che è il gol incredibile di Maxime Incredibile Maxime che la mette Con una parola al portiere Ma Maxime Gran gol Grande gol di Maxime Signori Che li buggera tutti E poi grazie portiere Che ce lo fai fare 2-0 per noi Maxime Boh Crollato Malamente Eeeh Madonna ma arato Da lì si dita signori Maxime da lì lo fa Ma Maxime Da lì può Signore Maxime Che gran gol di Maxime Incredibile come l'ha messa Incredibile Maxime Da dove? Da cosa sua? Con quale tecnica? Man of the match Maxime Due gran gol Questo dovrebbe anche quittare Per farmi risparmiare del tempo Nooo Fisca la fine Signori 3-0 per noi Voleva essere anche 4 Ma però ok Due gran gol di Maxime Che segnano il 3-0 il frittello Bello Bello Tutta tecnica Eeeh ma che sei scemo No Ma chiara ragazzi Dove va a segnare Vai Moli Vai Molinaro Molinaro a giro Niente Va Va Guarda le cose a caso Guarda le cose a caso Guarda le cose a caso Madonna come io ho fermato Butta sto pallone Invece ad alzare la mano Non c'è nessuno però Che accompagna Pinilla Nessuno Cosa è successo? Va bene Va bene Va bene tutto Pinilla Come on Pinilla Ma che cazzo Ti ho detto di fare una finta Idiota Oddio Maxime da lì Maxime Mamma mia La Prada La Prada Se segnano pure questa Maxime era l'apoteosi C'è tre gol uno più bene l'altro Il pareggio questa partita Giuro che è quitto Non faccio la terza partita Giuro Tanto tempo tantissimo Ma tantissimo Tanto tempo Vai vieni a prendere il pallone Vai Vieni a prendere la palla Signori Vieni a prendere 3 a 2 per noi Giusto così Ok signori Terza partita contro una squadra inglese Ovviamente è fortissima Eccisquiglia il telefono E basta Dobbiamo vincere la Maxime skill run Maxime skill run di Maxime Non l'ha fatta Non l'ha fatto lo scroll Perché non gli piace lo scroll su sto gioco Vai così Come on Lex Vai Lex Vai Lex allungati il pallone sulla fascia Come on Lex Non può fermarti nessuno Mortacci 2 Ma che cazzo fa Tira Tira da lì di sinistro Centrale Vai Piniglia Ma che cazzo l'hai passata Piniglia di Mortacci 2 Buona Buona per Maxime Eh che cazzo fai Eh Che regà Ho appena scoperto che penso E' rotto il R2 Perfetto così per Molinaro Dove è Piniglia Perché non va in mezzo Piniglia Piniglia va in mezzo Maxime Ci dove sta Piniglia là però Oh che cazzo Il bug totale Fallo What Vai partito Vai che è partito Vai che è partito Vai che è partito No che ha parato E porca Eva Raga Ma è stata massacrà Come on Lex Perfetto Piniglia Malinazione Tira da lì Vai perfetto A giro La parata Non c'è credito Buona Buona Finisce più tempo signori 0-0 Vai Madonna Piniglia Piniglia Non lo sbagliare Piniglia Sotto al 7 1-0 Meritatissimo 1-0 per voi Ma Molinaro scusate Gran gol di Molinaro Sotto al 7 Allora il frittello adesso Può gestire il vantaggio Tira Tira La parata Vai Come on Come on Maxime Come on Maxime Come on Maxime 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 Palo Vabbè vaffanculo Grande Tutto sullo stretto Con due Maxime 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 Palo Rete Maxime 2-0 Gran Rete di Maxime Che da lì Chiude forse la partita Vai Molinaro Fa ripartire l'azione Bell È morto Vai così È mandato Molinaro È libero Molinaro Ancora Molinaro Signori Molinaro Incredibile Incredibile azione E Rabona Non la farà mai Oh Non può farlo Minuto al termine signori E abbiamo palla Noi Siamo avanti anche di due Noi abbiamo probabilmente vinto questa partita Non ce la tiriamo Però Maxime Non c'ha più forza Maxi Ciao bello Maxime Ma vabbè Era esagerato Era chiaramente esagerato Maxime Da lì Non ce la fa più Qualsime forza Fisica 0 Vabbè Finisce signori 2-0 La terza partita Quindi due vittorie Una sconfitta Non siamo riusciti a arrivare Alla salvezza Però Nel prossimo episodio Ci proveremo Comunque Arriviamo a 20.000 like Per questo video Questi giorni sto registrando Un po' di episodi Anche se sono In questa situazione Noi ci sentiamo La prossima Lascia un like E un commento Bello Ricordate che in descrizione C'è G2A Per giochi E abbonamenti Scontatissimi